alla disney lo sanno tutti il ragazzino ha talento certo strano e strano come poche cose al mondo quando gli nominano biancaneve o il vecchio zio walt gli viene sempre un principio di orticaria e un giorno si è anche staccato un dente a mani nude e ha insozzato di sangue tutti i corridoi così perché si annoiava però a talento quindi don tatum primo presidente della compagnia non familiare disney decide di mandare julie hickson dirigente e sostenitrice del ragazzino a parlargli lei va e gli dice guarda per carità sei bravo e hai talento però sei un po troppo fuori di testa dei tuoi disegni ai piani alti non sanno proprio che farsene troppo macabri troppo strani troppo cupi ricordati che come diceva walt disney tutto questo è iniziato con un topolino lui la guarda con i suoi occhi vacui vitrei assenti e gli dice sì julie effettivamente hai ragione però vedi nei miei disegni io preferisco sempre che quel topolino sia morto il nome del ragazzino è tim 25 agosto 1958 jane e bill barton danno alla luce il loro primo genito tim l'infanzia di barton si svolge a bubank che era ed è un avamposto di hollywood e infatti ci sono gli studi della disney della warner della columbia e anche della mbc e infatti tim ma sognerà di fuggirci dagli otto anni in su perché lui con hollywood a piccole dosi inganna la noia guardando i film dell'orrore è nel suo cinema preferito il diavolo costruito in stile art deco vedrà il film dei suoi sogni gli argonauti regia don ceffi ma animato da quel genio direi erihausen e dove tim vedrà la tecnica cinematografica che gli cambierà la vita la stop motion a 16 anni per incompatibilità affettiva con i suoi genitori va a vivere dalla nonna lei gli racconta delle storie lui è ipnotizzato dai suoi occhi grandi di ghiaccio pieni di espressioni e di emozione e questa cosa degli sguardi gli resterà per tutta la vita sarà il metro di giudizio con cui giudicherà le altre persone soprattutto quelle che collaborano con lui a fibbia sua nonna anche un soprannome che li tornerà utile molto più avanti big eyes nel tempo libero per pochi dollari decora le finestre dei vicini con sucche scheletri per halloween e con paesaggi innevati per natale un giorno per la signora clark che abita a due isolati di distanza da casa sua disegna uno scheletro a cui mette il cappello di babbo natale e gli dà nome jack una mattina mentre sta passeggiando per bubank vede un commesso sostituire le decorazioni di halloween con quelle natalizie ne rimane talmente impressionato che ritorna a casa e scrive una poesia che nella parte centrale recita anche tu se lo vuoi canta la ballata della zucca con noi forse l'avete già sentita da qualche parte subito dopo il liceo approda alla collars e partecipa a un concorso per la disney con il corto stalk of the celery monster passabile m'era un'annata scarsa e venne scelto approda alla disney alla corte di glenkin la sirenetta giusto per dirne uno è buttato a capofito subito nel nuovo progetto red e toby nemici amici che bello pensa tim posso fare finalmente quello che amo certo come no soffre del peggior periodo di depressione della sua vita lui le volpi tenere carine proprio non riesce a disegnarlo non gli va le sue somigliano più ad animali investiti da un'automobile a cadaveri ma a talento il suo stile è completamente lontano da quello della compagnia ma vale la pena puntarci su così nel 1982 gli danno 60 mila dollari per girare un corto d'animazione e lui sceglie una poesia che aveva scritto qualche anno prima ispirata allo stile del dottor seuss il nome del corto e vincent del dottor seuss gli piace particolarmente una storia del 1957 dove un essere completamente verdognolo prova a rovinare il natale di chi sta qua il suo nome è il grange barton e l'animatore a passo 1 ricca e ricks che poi diventerà un suo grandissimo collaboratore sfacchinarono due mesi per mettere insieme un corto di cinque minuti prima di finire nel vasto archivio della disney vincent venne proiettato al cinema odion di los angeles accompagnato per mano da tex un team drama con matt dillon ricevette ottime recensioni a seattle e a chicago e vinse il premio della critica al festival di hansi in francia una sorte simile toccò a un altro corto targato walt disney ma dove team poter davvero lavorare sul cadavere di un animale franquini che ebbe un'apparizione in un cinema sparuto in inghilterra accompagnato da baby ma shelley duval che nel film interpretava la madre del protagonista volle e barton alla showtime per girare aladin da questa esperienza team ne guadagnerà per un errore dello scenografo delle siepi a forma di animali perché certo un giorno gli torneranno parecchio utili da un cortometraggio lungometraggio il passo è breve perché shelley duval sempre lei lo presenta a bonnie lee produttrice warner e soprattutto a paul rubens diventato famoso negli stati uniti soprattutto tra i bambini per il personaggio di pwee herman tutti e tre sono convinti team barton è l'uomo giusto per il film pwee's big adventure questo film è a basso budget ma barton ci sta mettendo troppo per girarlo a causa dei continui momenti di improvvisazione ogni tanto dallo studio a fianco arrivano dei produttori che gli dicono ma quanto ci stai mettendo per fare questo film quanto tempo vuoi ancora lui in cassa e sta zitto perché lui a hollywood a piccole dosi quei signori nello studio a fianco stanno girando un film che è tutto meno che a basso budget e diventerà un vero e proprio cult il goonies sul set di pwee barton fa un altro degli incontri della sua vita perché conosce il cantante e chitarrista di una band new wave yoingo boingo danny elfman ne risentiremo parlare soprattutto con barton il film ha un grandissimo successo di pubblico e il nome di barton infatti inizia a girare ma la critica lo stronca soprattutto parla malissimo della regia e mentre lui sta leggendo queste critiche sul giornale di hollywood con una lacrimuccia suonano al citofono e il postino che gli consegna un pacco raccomandato firmato team warner e michael mcdowell è una sceneggiatura senza né capo né coda ma che ha un titolo che è tutto un programma beetlejuice beetlejuice e ma la warner da buona azienda di marketing ha finalmente capito quali sono i film che può mettere in mano a team e infatti pensano lui per batman solo che al momento sono capaci di accordargli solo una sceneggiatura e anche abbastanza bruttina nel mentre barton finalmente si può dedicare al suo nuovo progetto beetlejuice e il budget corposo gli permette di dare sfogo a tutta la sua fantasia lui vorrebbe semi davis junior nel ruolo del bioesorcista ma la produzione pone il veto scatenando anche un piccolo scandalo di razzismo sulla stampa e la palla passa michael keaton che farà uno splendido lavoro soprattutto con gli occhi lui nel film vorrebbe anche winona rider ma dalla sua agenzia fanno sapere che l'attrice non è disponibile perché cito testuale lei non vorrebbe partecipare a un film satanico per fortuna team riuscirà a farle leggere la sceneggiatura e lei accetterà immediatamente ma sarà alan murro il supervisore agli effetti speciali a dare a barton il miglior consiglio per il film e se scherzassimo sulla morte che è come chiedere a team se preferisce il whisky al cianuro e non è detto che lui scelga per forza la prima opzione insieme buttano giù uno storyboard di sei pagine dove viene rappresentata la sala d'aspetto più grottesca e divertente del mondo quella dove troviamo il sommozzatore a cui uno squalo ha mangiato i piedi e che ancora il pesce attaccato alle gambe oppure dove c'è l'assistente tagliata in due dal mago o ancora l'uomo arso vivo perché fumava a letto ma il vero problema del film è sul titolo alla produzione birle juice non piace per loro non significa nulla loro vorrebbero un titolo meno evocativo house of ghost ma team lo odia questo nome e un giorno per fare una battuta durante una riunione esclama perché non lo intitoliamo scared shitless spaventati senza lenzuolo che in inglese si pronuncia nello stesso modo di spaventati a morte il problema è che lo prendono sul serio risposta di team porta sbattuta e dovrete passare sul mio cadavere per fortuna non lo faranno c'è però un detto ebraico che ha molto senso con questa storia vuoi far ridere dio raccontagli i tuoi progetti la scena è questa david geffen fondatore della geffen company che cura gli interessi del film dopo aver visto le prime scene girate durante una riunione entra sbatte team al muro e gli dice team questo film non ha nemmeno un finale quali sono le dieci regole di hollywood te le dico io pezzo di idiota più sentimento più lieto fine più amore meno stronzate meno improvvisazione ti emanuisce e pensa ma io il gas l'ho spento a casa infrangerà tutti e dieci comandamenti e il pubblico gli darà ragione il film uscirà il primo aprile 1988 e guadagnerà 75 milioni vincendo anche un oscar per il trucco geffen nel 1994 seduto al tavolo del clobar con steven spielberg e l'ex presidente disney jeffrey katzenberg fonderà la dreamworks pictures vuoi far ridere dio raccontagli i tuoi progetti dopo il successo di berojus finalmente la warner si decide è il momento di spendere bei soldoni per batman i diritti cinematografici del personaggio della dc creato da bob kane vennero venduti nel 1979 a melniker e uslan che chiamarono tom manchievich lo sceneggiatore di superman per scrivere qualcosa sulle origini del cavaliere oscuro ma le prime voze non furono un granché e quindi la palla passò a tim barton e sam ham loro volevano una gotham più cupa più infernale più spettrate e per farlo tirarono fuori dal loro scaffale due piccoli capolavori il ritorno del cavaliere oscuro di frank miller e soprattutto una pietra miliare non delle graphic novels ma della letteratura da killing joke di alan moore la scelta di jack nicholson ricevette consensi unanimi e vorrei anche vedere se non chiama il più pazzo degli attori per interpretare il più pazzo dei pazzi chi chiami per michael keaton invece fu tutta un'altra storia e all'inizio a volerlo non fu barton ma il produttore john peters la warner venne subissata da 50.000 lettere di protesta da parte di fan inorriditi e la notizia arrivò anche a wall street dove la warner subì un vero e proprio tracollo altro che martedì nero del 29 su los angeles times uscì anche una letterina mica male cito testuale scegliendo un buffone per questo ruolo la warner e barton hanno defecato sulla storia di batman insomma non si partiva sotto i migliori auspici il film uscì negli stati uniti il 21 giugno 1989 e guadagnò 100 milioni nella prima settimana alla fine dell'anno diventerà il film più visto dell 89 incassato 500 milioni e creando un fenomeno di marketing che verrà ripetuto solamente nel 1993 dal primo film in alto budget cgi giurassic park eh ma ci sono altri progetti che riguardano barton e chi gli sta intorno che faranno parecchio ridere dio ad esempio nell 89 c'è un altro che a hollywood non se la passa benissimo anche lui a piccole dosi johnny depp ma tutto cambia quando abbandona la strada vecchia per quella nuova e la sua nuova agente tresi che ad oggi lavora ancora con depp gli propone una sceneggiatura tratta da una raccolta di racconti dello stesso barton morte malinconica del bambino ostrega e altre storie solo che la sceneggiatura ha un titolo completamente diverso e parla di un novello pierrot dalle sembianze grottesche edward mani di forbice l'incontro tra i due avviene nel bar del bellagio hotel insieme a tresi e denise di novi che è diventata una delle più strette collaboratrici di barton i due si parlano poco avviene molto nelle loro teste l'incontro soprattutto si guardano si guardano a lungo perché big eyes in un modo in un altro torna sempre soprattutto in questo film gli occhi per team sono importantissimi visto che edward nella sceneggiatura originale e poi anche nelle riprese pronuncia solo e sottolineo solo 169 parole e depp ha la capacità innaturale di rendere vitrio il suo sguardo senza fare nulla perfetto ovviamente va tutto bellissimo e la produzione accetta subito il film no perché la warner questo film non lo vuole secondo loro non potrebbe mai avere successo la storia di un ragazzo silenzioso con le forbici al posto delle mani e quando mai tim se ne frega e paga di tasca sua la sceneggiatura chiamando caroline thompson che aveva scritto un libro firstborn che parla di un bambino abortito che torna in vita come non morto il libro perfetto per barton tra i due nascerà una tale affinità artistica che proprio caroline sceneggerà un'altra storia di barton nightmare before christmas tim vuole anche diane west nel ruolo di peg e winona rider ancora lei nel ruolo di una cheerleader proprio winona in quel periodo aveva una relazione con deb e da lì il tatuaggio sul braccio di johnny winona forever che dopo la separazione trasformerà in wino forever ubriaco per sempre chapeau ma il vero problema col film sta nel prima realizzare e poi recitare con delle forbici così grandi il primo problema viene ovviato chiamando stan winston già vincitore di due premi oscar uno per aliens e uno per terminator 2 per il secondo invece ci vuole la totale dedizione al lavoro di johnny denp che inizia a stare con le forbici anche subito dopo le riprese mentre mangia mentre parla con gli altri e anche quando va in bagno come abbia fatto io non lo voglio nemmeno sapere il film uscirà il 7 dicembre 1990 farà incassare alla fox tra il noleggio in vhs e la visione al cinema 70 milioni di dollari e alla fine dell'anno sarà il film più visto della century barton e depp si rincontreranno qualche anno più tardi al formosa caffè di los angeles sempre in compagnia di tresi e denise di novi per parlare di un altro progetto una sceneggiatura di larry karasinski e scott alexander ed wood la storia del peggior regista di tutti i tempi e siccome a team subito dopo pwee quel marchio glielo avevano affibbiato dice subito sì quel personaggio è suo meglio ancora quel personaggio è lui ed proprio come barton si circondava di personaggi altamente improbabili tipo una veggente che non prendeva nemmeno per sbaglio le previsioni del tempo o vampira la conduttrice di un horror show entrambe erano convinte che con ed avrebbero sfondato lui è l'autore di veri e propri cult del kitsch tipo la sposa del mostro o il famigerato piano 9 da un altro spazio considerato unanimamente il peggior film di tutti i tempi il film uscirà nelle sale il 7 ottobre del 1994 e mai come allora le critiche furono osannanti ma meno il rapporto col pubblico diventando il primo fiasco al botteghino per barton ma siccome in questo film ci sono le anime di due bilancia team ed ed ovviamente c'è un rovescio della medaglia perché vincerà due oscar uno per il trucco a rick baker e uno per migliore attore non protagonista a martin landeux che nel film interpretava bella lugosi uno dei più grandi dracula di sempre sono certo che durante quella notte degli oscar depp e barton edward chissà dove e soprattutto dio abbiamo riso parecchio un giorno barton torna a casa dopo un'intervista e per rilassarsi un pochino comincia a mettere a posto la sua scrivania e ritrova un plico di fogli contenente uno storyboard dedicato alla poesia di cui parlavamo in apertura anche tu se lo vuoi canta la ballata della zucca con noi cercava di realizzare questo progetto dal 1982 e il suo fidato collaboratore rick hirix aveva costruito anche un modellino in 3d del protagonista jack skellington il personaggio di jack piaceva a tutti ma non era mai il momento giusto per farlo e team solo nel 1990 chiese al suo agente di verificare se i diritti fossero ancora della disney ed effettivamente era ancora così nonostante la computer grafica però c'era ancora chi amava dipingere e manovrare a mano i propri personaggi tipo nick park premio oscar o henry selick conosciuto alla call arts ea cui proprio tim barton affiderà la regia di nightmare before christmas lui non può farla primo perché vuole un punto di vista diverso sulla storia secondo perché non ha uno straccio di sceneggiatura ma ci penserà caroli e terzo perché impegnato con le riprese di batman in ritorno un film importante e quindi con troppi controlli dall'alto ma il film lo farà lo farà eccome e se ne convincerà ancora di più proprio durante le riprese di una scena del suo cavaliere oscuro mentre riprende oswald cappol pot il pinguino interpretato splendidamente da danny devito ai microfoni di gotham city arriva una notizia bomba che rischia di minare il set e su cui barton rilascerà una delle sue interviste più famose per il ruolo di cat woman lui aveva scelto michelle pfeiffer a detta del regista i suoi occhi erano troppo sensuali per non essere scelta e come dargli torto ma la decisione non era andata giù proprio a tutti tipo a shon yang intervistato sull'argomento barton rispose e credo che shon abbia sempre voluto fare cat woman la capisco è un personaggio fantastico vorrei farlo io cat woman il più grande regista italiano moderno avrebbe detto ci vollero però tre anni per realizzare nightmare before christmas con la disney sempre alle calcagne a dire non è un film per famiglia non è un film per la disney non è un film per i bambini motivo per cui nel 1991 denisi novi e tim barton insieme alla sorella maggiore ma alcolizzata della disney la touchstone fonderanno la jack skellington production dando il via alla produzione del film il film costo meno di 18 milioni e uscì nelle sale la notte di halloween del 1993 incasserà 51 milioni e nonostante le recensioni le critiche il successo di pubblico tutto molto positivo c'era ancora chi scriveva sul giornale è un film troppo cupo per essere un film per famiglie sarà anche cupo va bene lo accetto ma il mondo si divide tra chi si emoziona per re del blu re del mai e chi mente per davvero e siccome la curiosità non è peccato secondo voi nightmare before christmas quando va visto ad halloween o a natale io faccio entrambi i giorni poi decidete voi re del blu re del mai non ho più dentro me quella voglia di terrore di guai se ti chiami tim barton e sei cresciuto al cinema avalon inseguendo tre horror a sera è normale che prima o poi pensino a te per almeno due storie del terrore solo che entrambi i film sono ammantati dalla leggenda hanno un quartiere degradato sullo sfondo e johnny depp come attore protagonista la prima storia è la trasposizione di un mito germanico poi rivisto dalla sadica penna di washington irving che parla di un cavaliere senza testa affrancato dal talento deduttivo di ica bond crane tutto nella misteriosa cornice di sleepy hollow mai titolo fu più evocativo ciò che convince barton ad accettare lo script di kevin walker che fino a quel momento aveva una sola sceneggiatura seven forse ne avete sentito parlare fu l'opportunità di cimentarsi finalmente con il vero cinema horror e soprattutto di potersene andare da hollywood il set venne ricostruito grazie alle sapienti mani di rick heinrichs nella lime tree valley a merlow il film uscirà nel dicembre del 99 e mai come allora barton ricevette delle critiche così lusinghiere forse solo per edward ma durante la premiere si accorse di un piccolo dettaglio nei titoli di coda francis for coppola sua maestà era il più importante produttore esecutivo del film e lui non lo sospettava nemmeno fino al giorno della prima benvenuti nel magico mondo di hollywood il secondo film parla di un serial killer vissuto in flit street nel diciassettesimo secolo che tagliava la gola i suoi clienti e poi grazie a una botola li lasciava cadere nel forno della sua accomplice miss nelly lobet che gli utilizzava come ripieni per i suoi pasticci di carne questa storia ancora oggi divide l'opinione pubblica perché secondo alcuni sweeney todd è realmente esistito secondo altri è tratto dalla penna magnifica di thomas packet priest nel 2006 barton era pronto per girare believe it or not con jim carrey ma all'ultimo momento la paramount blocco i lavori e la dreamworks chiuse il contratto per sweeney todd e ovviamente scelse team come regista ma contenere tre ore di musical non era facile all'interno di un film quindi alcune canzoni vennero scartate tra cui la splendida the ballad of sweeney todd che nello spettacolo originale introduce il personaggio del barbiere ma non il personaggio come l'aveva pensato team che infatti preferì no place like london in duetto con anthony su depp nessun problema era perfetto il vero problema era l'attrice protagonista elena bonan carter compagna di barton adorava il musical fin da bambina e voleva quella parte ma nonostante lei e i provini fosse stata bravissima barton temeva l'opinione pubblica non voleva che la gente credesse che lui l'avesse scelta solo per la relazione che intercorreva tra di loro tornò a new york e continuò a fare altri provini ma alla fine fu proprio sunday l'autore delle musiche del musical originale a sceglierla risultato ce lo racconta proprio barton nella sua intervista autobiografia un film come questo è una strana scommessa perché un musical pieno di sangue è vietato ai minori la gente che frequenta i musical di broadway generalmente non va a vedere i film trucculenti mentre chi ama i film trucculenti di solito non frequenta broadway perché solo barton ma solo lui davvero poteva unire entrambi i tipi di pubblico e far accapponare la pelle a entrambi senza distinzione nella linea sottile che intercorre tra sleepy hollow e sweeney todd c'è spazio anche per un po' di sincerità e quattro film il primo è un rifacimento di un vero e proprio cult di franklin schaffner tratto dal romanzo di pierre boulet il pianeta delle scimmie su questo set barton conoscerà richard d zanuck che durante le pause gli parla di suo padre daryl zanuck creatore della century poi fusa alla fox durante le pause richard gli racconta che sul letto di morte suo padre diceva di aver visto davvero durante i suoi lunghi viaggi nani donne cannone che avevano davvero sposato il loro cannone e soprattutto gli parlava di un pesce dai mille colori tim lo ascoltava e gli credeva e non si capacitava del perché nessuno avesse ancora fatto un film su questa storia ci penserà lui proprio nel periodo in cui cerca di recuperare un briciolo di rapporto con suo padre ormai malato e morente grazie a tutto questo e attraverso i produttori di american beauty riceverà quasi per caso quasi perché il caso non esiste nella vita di barton una sceneggiatura tratta da un romanzo di daniel wallace big fish e ma più gira con attori reali più sente la mancanza dell'animazione a passo 1 e sulla strada per assecondare il suo grande desiderio si pone la pixar sembra che a hollywood non ci sia più spazio per l'animazione tradizionale ma tutto cambia grazie a una fonte esterna joe rant lo sceneggiatore della bella e la bestia che scova quasi per caso una trasposizione tutta europea del mito di orfeo ed euridice dove un ragazzo attraversa lo stige alla ricerca della donna amata e per sbaglio gli cade l'anello di nozze all'interno della bara di una donna assassinata la donna si risveglia e lo costringe a sposarla ovviamente parliamo della sposa cadavere ci vollero però dieci anni per il no definitivo della disney che oramai aveva preso strade completamente diverse dall'animazione a passo 1 prima che la warner decidesse di acquistare i diritti e lo farà lo farà eccome proprio mentre burton sta girando la fabbrica di cioccolato già la fabbrica di cioccolato nel 1971 Mel Stewart aveva già realizzato una versione del romanzo con protagonista meme non solo quel genio di Gene Wilder ma alla morte dello scrittore la warner chiese alla vedova Lizzie Dale i diritti per una nuova trasposizione lei donna squisita però era riluttante a un'altra versione a un'altra trasposizione del personaggio di Willy Wonka si convincerà ma un'unica condizione potere di veto definitivo su tutti i personaggi storia complessa ma perfetta per burton perché i bambini i protagonisti non sono quelli della casa della prateria o della famiglia Brady no sono quelli del signore delle mosche se li lasci da solo un minuto secondo me si ammazzano senza pensarci su due volte poi per la prima volta quando burton propone depp nessuno ha nulla da obiettare anzi a proporlo e il produttore alan horn e ci credo depp veniva da una nomination agli oscar per i pirati dei caraibi ne riceverà un'altra proprio per zweeney toad burton pretese e ottenne di poter ricostruire la fabbrica in versione futuristica ai pinewood studio ma la volete sapere veramente una cosa figlia sulla fabbrica di cioccolato? avete presente la scena degli scogliattoli? ve la faccio rivedere ecco quegli scogliattoli non sono in computer grafica sono reali e sono addestrati da mike alexander e da allora il suo ranch è uno dei più visitati al mondo è ancora aperto vi consiglio di andarci burton ricostruì tutte le stanze che voleva non al computer ma sui set dove un tempo venivano girati i film di 007 e le riprese della fabbrica di cioccolato erano così blindate che ogni tanto qualcuno degli addetti ai lavori si avvicinava e chiedeva burton tim sei davvero girando un nuovo film su james bond? e siccome lui in queste cose si diverte sempre come un matto rispondeva sempre nello stesso modo sì sì un film in cui bond affronta dei bambini zombie rene parola di nuovo a te genio! titoli di coda lo so non ho parlato di tutti i film di burton non basterebbe una vita magari qualcuno di voi preferisce non so Alice in Wonderland Big Eyes o Dubbo o come lo chiama qualcuno Dumbo ma quello non è Tim è suo cugino però ho un'ultima storia da raccontarvi prima di lasciarvi subito dopo le riprese della fabbrica di cioccolato burton andò a trovare sua madre che purtroppo era malata e morente non avevano rapporti da anni eppure lei conservava tutti i ritagli e i poster dei film del figlio lui non lo sapeva e trattenne a stento una lacrima si guardarono si guardarono a lungo gli stessi sguardi che lui un tempo dedicava a sua nonna o con cui sceglieva i suoi attori preferiti Big Eyes lei gli strinse la mano e gli disse soltanto sogna figlio mio sogna sempre a occhi aperti già il sogno a occhi aperti che attraversa tutta la poetica di burton il sogno come Pee Wee come Edward come Jack come Edward come Johnny Depp perché come diceva Edgar Allan Poe grandissima fonte di ispirazione per Barton chi sogna a occhi aperti e ha conoscenza di molte più cose di chi sogna da addormentato grazie e buona visione a tutti voi grazie 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 grazie